Salve, eccoci qua in questo nuovo video e oggi vi voglio parlare di come inserire la cometa 12P che è quella nuova di marzo, come inserirla in Stellarium quindi questo video, se siete interessati, è molto interessante perché vediamo come poter inserire questa cometa e poi poter seguire il suo percorso e poterla trovare e quindi anche poterla trovare con i nostri telescopi che è anche importante, quindi sapere un pochettino di cose allora iniziamo a vedere prima una cosa, qui abbiamo già aperto Stellarium quindi per chi non lo avesse vi consiglio di installarlo potete installarlo dal sito stesso di Stellarium e potete scaricarlo e installarlo allora vediamo un attimino come si fanno le cose qui abbiamo diversi parametri, diverse configurazioni qui possiamo attivare anche la griglia se ci può interessare poi vabbè faremo qualche video sulle spiegazioni su Stellarium vediamo un po' come poter fare meglio e quant'altro ecco qua allora, finestra data e ora che ci permette di configurare la data e l'ora dell'oggetto quindi noi da qui possiamo tranquillamente selezionare una data e ora e possiamo così decidere anche verso che ora dobbiamo simulare poi qui abbiamo la finestra della posizione che possiamo impostare la nostra posizione dove ci troviamo le coordinate geografiche della nostra posizione ed è questo anche importante perché altrimenti se siamo in un'altra parte del mondo ovviamente ci ritroviamo che poi è inutile come dire, quelle coordinate che ci dà o gli orari che ci dà sono sbagliati è quindi interessante avere queste informazioni basilari almeno per quello che posso dirvi allora ora che qua, finestra di ricerca nella finestra di ricerca possiamo cercare gli oggetti che vogliamo quindi abbiamo, vediamo un attimino facciamo 12 pons, brox, bronx, brux tutto nomi strani vabbè, penso che qua non c'è quindi il 3 patriarchi questi qua sono tutti gli elenchi gli asterismi a massi aperti qui abbiamo tutto quello che ci vediamo un po' il comite 12 p no, non c'è po', non c'è proprio 12 p nada, non c'è e quindi come dobbiamo fare se non c'è e qui andiamo qua e qui viene in corso questo qui che ci aiuta proprio, ecco quello perché il catalogo di Stellarium ovviamente può essere esteso e se non ci sono determinate cose dici come facciamo ad avere altre cose altri oggetti e quindi andiamo qua dentro e troviamo la voce la voce allora ora ve lo dico subito editor del sistema solare allora qui possiamo fare sistema solare eccolo qui aggiungi nuovi oggetti possiamo fare importa ecco qua importa i dati comite asteroide comite scegli segnalibro e qui possiamo scegliere anche ottieni gli elementi orbitali ecco qua vedete poi facciamo 12 p eccola qua vedete ce l'ho data subito andiamo qui facciamo aggiungi oggetti e ce la ritroviamo nel nostro catalogo ecco qua chiudiamo questo ecco qua la 12 p eccola qui vedete ora ce l'abbiamo prima non ce l'avevamo quindi ricapitoliamo andiamo qui andiamo su finestra di configurazione prima noi cerchiamo se c'è nel nostro database se non c'è l'andiamo ad inserire quindi finestra di configurazione o premere il tasto F2 come vi indica qui sullo schermo poi una volta fatto questo si apre questa schermata noi da qui abbiamo questa andiamo a plugin editor del sistema solare configura da configura qui vediamo queste qua sono quelle che abbiamo aggiunto quelle che già ci sono e se non la troviamo andiamo direttamente import elementi orbitali ok import elementi orbitali scegliamo comete poi da qui ottiene elementi orbitali qui dobbiamo scegliere un catalogo io scelgo primo ok ottiene elementi orbitali e scriviamo 12p eccola qui la 12p e questa qui la selezioniamo 12p pons brox brox come si chiama brox non può essere però doppia o per esempio si pronuncia quindi brox poi mi correggete me lo scrivete nei commenti per favore come si chiama perché non so non so bravo l'inglese vabbè comunque però bene o male me la davi a capire almeno come funzionano le cose e e niente poi facciamo aggiungere oggetti e ce lo ritroviamo nella nostra finestra eccolo qua ora se noi andiamo a cercare chiudiamo tutto chiudiamo tutto ora facciamo la finestra di ricerca quindi finestra di ricerca e scriviamo 12p ok quindi qua ok 12p eccola qua vedete ora ci compare 12p pon brox io non so come si pronuncia aiuto eccola qua dove ce la vedete ce le dice proprio come si suol dire ecco vedete ce lo dice che sta in andromeda ecco quindi corrisponde in tempo reale ci fa vedere dove si trova ora se noi quindi ci vogliamo rendere conto di dove per poterla vedere qui il sole sta sud ovest sta per tramontare diciamo così allora noi possiamo simulare anche una fascia dell'ora quindi andiamo a fare questa è la data no questa è l'ora data è ora giorno e giuliano quindi l'ora mettiamo le 6 vedete nonostante che il sole è ancora in alto è quasi al tramonto mamma mia questa è ancora il sole in alto impossibile fotografarla ah no questa abbiamo messo data giugno aprile marzo ecco qua quindi aumentiamo i giorni aumentiamo i giorni aumentiamo i giorni però se noi aumentiamo l'ora l'ora eccola qui il sole è tramontato il sole è tramontato alle 19 e 6 e la cometa la possiamo vedere 12 ponsprong ecco qua vedete è abbastanza visibile la magnitudine ce lo dice pure la magnitudine è 4.61 quindi dovremmo dovrebbe essere abbastanza visibile quindi facciamo una simulazione di come si vedrebbe non dico con un oculare vabbè un oculare da 40 mm con un mac 127 quindi dobbiamo eeeh è addirittura visibile con un piccolo telescopietto da 6700 potete vederla anche con un telescopio OTS piccolino lo potete vedere bella bella speriamo che il tempo mannaggia sto tempaccio sto se è nuvoloso aah poi 60.000 più è corta la focale meglio è 7700 eeeh addirittura anche vabbè lo possiamo fotografare proprio con una reflex cioè proprio senza nessun problema beh ovviamente più la focale è corta e più il campo è largo però mamma mia questa è una bella comita una bella comita e comunque vabbè questo è il video mi raccomando io vi ho fatto vedere come si inserisce la comita in Stellarium voi tanti like al video condividete il video iscrivetevi al canale e vi farò il prossimo video per vedere tutto l'andamento della comita e vediamo come migliora nel tempo come trovarla come fotografarla e come fare tante altre cose voglio tanti like ok ciao al prossimo video ciao